Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Bene si regà, benvenuti in questa nuova tra virgolette challenge Perché oggi possiamo solo jitter cliccare nelle badwars regà Sto imparando piano piano jitter cliccare quindi oggi impariamo insieme il jitter clic E dobbiamo solo jitter cliccare Vi metterò la webcam sopra il mio mouse e quindi regà vi auguro una buona visione Iscriviti al sito di nuovo e ti vedo anche la campanellina E niente, ci vediamo in game Regà ci siamo, ebbene si voi non mi vedete ma vedete il mio mouse Allora sto con il Logitech G502, potete vedere tutta la mia prospettiva del mouse ok Allora lo vedete un po' da lontano, praticamente per fare il jitter ragazzi uso una tattica Diciamo una tattica che si fa così, metto il dito, uso due dita Quindi il primo per cliccare, il secondo lo vado a mettere sopra l'altro dito per spingere e per far vibrare In questo modo regà è un po' di parole, guardate così vibra il dito All'inizio ti fa un po' male, comunque faccio 12-13 cps di jitter non di più Fa un po' male ragazzi, non ho mai provato a fightare con questo tipo di click Quindi con il jitter non ho mai fightato proprio mai Quindi è arrivato il momento di fightare con il jitter ragazzi Veramente mai fatto perché io uso solo il fast o il butterfly Non sono anche su un mira ragazzi, non lo so, però ci proviamo ragazzi Possiamo solo jitter cliccare, naturalmente per i brigieri posso fare il one click Poi naturalmente regà bisogna jitter cliccare per fightare appunto i nostri avversari Perché sennò la challenge è fallita Ok il verde è sopra di noi, io naturalmente prima di iniziare imposto sempre le mani Inizio Un po' jitter cliccare, minchia regà, l'ho rato questo, l'ho rato tantissimo Oh il jitter è OP, naturalmente ragazzi è la prima volta che lo faccio quindi Consigliatemi ragazzi qui sotto nei commenti altri click da fare Perché come vedete sto provando un po' tutti i click Allora possiamo fare anche così direttamente Dove? Ci clacciamo qui Ah non hai letto il blu? Il rosso è letto ragazzi Allora proviamo un attimo a jitter cliccare Vedete riesco, rica riesco, comunque vibra un po' la mano Però non riesco a provare a farlo per beh Ma osso vuoi vivere o vuoi morire? Vuoi vivere, ok allora comportali bene Bene ragazzi il mio rosso è stato eliminato dal pink Quindi dobbiamo lasciare il pink e poi abbiamo il white Ok ok, molto molto bene Letto white ristrutto dal pink Il pink ragazzi è bello aggressivo eh Andiamo subito in base White eliminato dal pink E niente regà, oggi il pink è proprio aggressivissimo Va bene, va bene, ci pensiamo noi Calcolate ragazzi che fare questo click All'inizio ragazzi ti devi abituare perché sennò dopo ti fa male veramente il dito Quindi è normale ragazzi, non riesco a farlo per bene Infatti ad esempio eccolo qui, adesso riesco Più o meno Ci sta, ci sta, non è male comunque come click È il problema che ti devi abituare perché sennò ti fanno male veramente le mani Credo che sta andando in base mia ragazzi il pink Quindi o ci suicidiamo o aspetta, no no no, già arriva Perdiamo il game, perdiamo il game, perdiamo il game, perdiamo il game, perdiamo il game Perché mi devo prima impostare per cliccare no Non riuscivo a fare così invece ho filato il click Abbiamo fatto solo un fight quindi adesso andiamo subito a farci un altro game Per poi appunto fightare ragazzi Il primo game ragazzi non ho filato tutto mamma mia Va bene, ci sta, ci sta, ci sta Regà, ci siamo Secondo game dove jitter clicchiamo ragazzi Che ancora non riesco perché mi fa male il dito Ma va bene così Già detto ragazzi non è semplice perché è questione di abitudine Se lo fai sempre, 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 sempre Ragazzi ti abitui e lo fai molto, molto easy Essendo ragazzi che io, la prima volta che lo faccio, ripeto Non lo so fare per bene Infatti schelero, 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 schelero Quindi adesso ma Oh mio jitter che Regà mi è uscito un jitter clicchia della madonna Ma ho fatto riposito di 7 gps, di 16 e 7 gps regà Mamma mia, mi è uscito un jitter pazzisco Oh ma quello? Dove sta bruciando? Oh fa l'adder clutch Sì sì sì, devo fare l'adder clutch, sì sì Il problema è anche la mira ragazzi Non sono abituato neanche con la mira, vediamo un po' Questa è uscita bene Questo è uscito bene Non mi lamento Perfetto, riproviamo Buono Anche questo non è andato male Buono, faccio di me Ragazzi guardate che Mentre fai ragazzi la prima volta Gli 11 e 12 gps che faccio Ci stanno un botto Mi sto sorprendendo di me stesso Adesso andiamo subito dal bianco Eeeh 238 Ok Oh l'ho chelato? Lol Calcolate che su qui si Non stavo facendo questa challenge Lo arabo perché è scherzi in culo Possibile che Mi sta rasciando sto bastardo Regà Eh però Non riesco Se no sto cliccando Non sto cliccando No regà non riesco No non riesco Regà eh grazie Che poi regà è scarso Questo è il problema È scarso questo Però io sto facendo questa challenge Che non riesco proprio Guarderemoci un olio eh Ok Regà non riesco Va bene ma va bene Non mi frega ragazzi Se perdiamo contro questo Perché so che Lo potrei sconviggere tranquillamente Perché è scarso Però facendo questa challenge Ragazzi non riesco proprio Oddio Oddio regà Mi sto sorprendendo di me stesso regà Oddio Ma come l'ho killato Ok regà sta arrivando eh Ci proviamo Ok Oh ma il gitter è OP Ma è OP il gitter regà No Non mi ha shiftato Non ci credo no regà Io veramente Io mi rifiuto di giocare Regà ci facciamo l'ultimo game Questo qui ragazzi Anche se abbiamo perso Per una cazzata Perché non mi ha shiftato Sono contento Perché veramente Lo stavo fidando Era anche a livello alto Con il gitter che è la prima volta Che lo faccio per bene GG Ci sta Andiamo a fare l'ultimo game Io direi Che ci siamo Terzo e ultimo game Per sclerare Ebbene si ragazzi Continua a sclerare Ok Bardiamo ragazzi Perché adesso Si sa che perdiamo subito il letto Perché regà È normale Ripeto Scorso game Mi è piaciuto È andato bene Quindi non mi lamento Non mi lamento Anche se perdiamo adesso Questo game Non fa nulla regà È andato bene lo scorso game Non mi lamento Non mi lamento Fatto sta Abbiamo il giallo qui sopra Ragazzi che Che vuole fare bro Yoji Oh mio dio No ragazzi E mi è tanto schifo Ok andiamo Ok Morto Yoji Ha messo il legno lui Va bene Non ce ne frega nulla Quindi noi Tranquillamente Andiamo così Tanto lo distruggiamo Con le mani in letto Sempre se riusciamo a killarlo Prima mi conviene Faitarlo Secondo me Ci proviamo Dai Guardate la mia mira Guardate la mia mira Oddio regà Ma do un knockback bestiale Ma un knockback bestiale Regà Mamma mia Regà Secondo me Se continuo a farlo Diventa un click Veramente OP Proviamo E niente Vedete Alcune volte mi fermo Non è normale Ragazzi Sto iniziando adesso a farlo Quindi con calma Dobbiamo migliorare Ok Morto Nice 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 È il primo andato No il verde Il verde in base Il verde in base Il verde in base Armor subito spada Andiamo 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 In teoria Potremmo anche Riuscire a difendere Ma no Non ci frega il letto Green bad distrutto Tanchiamo il letto Si Jitter 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 E si Abbiamo anche Difeso il letto OP OP Sta arrivando il grigio Verso la nostra base No 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 Abbiamo perso il letto Abbiamo perso il letto Porca troia Non ci credo Non ci credo Dobbiamo rifletarlo di nuovo No Sto rischiando Oddio l'ho orato Oddio l'ho orato Via 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 Minchia Che Jitter Mamma mia Che il Jitter OP Cioè Chi minchia Lo sapeva Adesso cliccherà così Regà Mi sono ritrovato Una madonna davanti Sono morto Va bene Ci posso stare Questo video Termina con Naturalmente Spero vi sia piaciuto Lasciate un bel like Iscrivetevi Vedete la campanellina Io raga Mi sono divertito Sto migliorando Piano piano nel Jitter Vi ho messo appunto La handcam Sul mouse Così potete vedere bene Tutto Come lo faccio Raga Lasciatemi dei consigli Qui sotto nei commenti Ci vediamo Da un'unica Dici con un nuovo video E fatemi sapere Altri click Da imparare Ormai Stiamo facendo tutti Vi auguro una buona giornata Bella Ciao 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 Ciao